Il codice della navigazione prevede che il comandante di un'unità di riporto debba avere determinate responsabilità e soprattutto dei doveri. I doveri di un buon comandante di un'unità di riporto si suddividono in prima della navigazione, durante la navigazione e a rientra in porto. Per fare una breve sintesi, il comandante di un'unità di riporto, prima di intraprendere la navigazione, deve consultare i voletini meteorologici, pianificare la navigazione sulle carte nautiche, verificare l'integrità dello scafo e fare dei controlli specifici su quelle che sono le dotazioni di sicurezza, su quelle che sono la sala macchina, eventuali locali sentine, tutte le dotazioni di sicurezza ma soprattutto tutti gli strumenti di bordo che devono essere sempre efficienti. Un altro compito del comandante, prima di intraprendere la navigazione, è quello di istruire bene il proprio equipaggio e il personale imbarcato. Durante la navigazione il comandante non deve assolutamente mettere in difficoltà il suo equipaggio, ma soprattutto non deve mettere in condizioni di pericolo. È importante che mantenga una condotta prudente, sicura, quindi lontano dalle coste, lontano dai bassi fondali, non deve assolutamente inquinare e violare le aree marine protette. Se nel corso del viaggio si sono manifestati eventi di carattere straordinario, il compito del comandante rientra in porto a fare denuncia di evento straordinario. Ora, punto per punto, si possono analizzare le diverse sfaccettature di quanto ha appena esposto.